bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi volevo visto che non ho ancora avuto il tempo di farlo parlare con voi e elencarvi tutto quello che è stato inserito nell'ultimissima patch di fortnite si chiama 1.11 avevamo visto la patch 1.09 qualche giorno fa mentre questa è uscita il 13 dicembre la cosa ragazzi più importante di questa patch a parte tutta la veste grafica parliamo sempre ragazzi della battaglia reale della modalità quella free di fortnite è l'ingresso del pass battaglia che cos'è questo pass battaglia praticamente è appunto un pass che serve per ottenere dei bottini estetici praticamente giocando con l'acquisto di questo pass potremo sbloccare fino a 65 nuovi oggetti che vanno dalle skin per il nostro deltaplano per il nostro personaggio per le armi hanno veramente veramente inserito un sacco di nuovi oggetti poi tra l'altro ragazzi è anche subentrata la stagione numero 2 per chi non se ne fosse accorto è stato azzerato il livello del personaggio ed è stata ricominciato tutto da zero con la stagione numero 2 il negozio stagionale è stato sostituito infatti dal pass battaglia della stagione 2 mentre ragazzi lo spirito delle feste è arrivato anche nella battaglia reale praticamente hanno inserito delle nuove armi che è il lanciagranate a palle di neve più comunemente chiamato il lanciapalle per un periodo limitato ovviamente e abbiamo visto anche che l'autobus della battaglia è stato addobbato diciamo a natale oltre ad aver anche messo dei regali speciali per tutta la mappa ci sono anche delle cose nuove relative alle emoticons alle mosse diciamo di ballo che possiamo fare praticamente abbiamo una nuova serie di passi che possiamo eseguire durante la nostra partita fino a 6 possiamo sceglierle inserirle ed attivarle quando preferiamo durante la nostra sessione di gioco per quanto riguarda invece ragazzi il gioco in sé vero e proprio hanno inserito quella modalità che già conosciamo la 50 versus 50 e hanno anche inserito dei nuovi incarichi giornalieri abbiamo un top 50 nel giocatore singolo e un top 12 a squadre questo ragazzi poi ci verrà calcolato probabilmente alla fine della stagione e ci darà dei punti extra hanno aggiunto anche un supporto per chi gioca con uno schermo a 21 noni un po più grande hanno aggiunto delle animazioni di scivolo quando si salta dai pendii e hanno anche aggiunto delle animazioni per orientarsi quando con la testa guardiamo il reticolo durante gli scatti diagonali hanno modificato e l'avrete sicuramente notato anche voi invece la configurazione base del controller soprattutto nella modalità professionista del combattimento che è quella predefinita quindi noi possiamo andare a cambiarla se per caso ci troviamo scomodi questo è ad esempio il mio caso hanno anche comunque corretto dei bug che davano parecchio fastidio davano ad esempio c'era il danno che ci veniva assegnato a schermo che però non era in realtà uguale a quello che realmente subivamo hanno sistemato questo hanno sistemato anche i forzieri che apparivano chiuse a distanza ma quando ci avvicinavamo invece erano aperti e hanno anche sistemato un bug che impediva ai giocatori di raccogliere gli oggetti che si trovavano sopra ai forzieri hanno risolto un altro problema ragazzi che impediva ai giocatori di subire dei danni quando cadevano se avevano solamente un punto salute hanno sistemato delle cose relative ai costumi un pochettino più a livello grafico i palloni da calcio e da basket in movimento adesso sono più cioè hanno un movimento più fluido quindi ragazzi bisogna anche ipotizzare che quelli di fortnite vogliono fare dei mini game con il pallone che vediamo spesso e volentieri ad esempio c'è il pallone da basket nelle prigioni parliamo invece ragazzi delle armi che è quello che ci interessa un po' di più quando adesso lanciamo le granate sarà visibile una breve traiettoria che farà vedere l'arco di lancio della granata hanno anche rinominato invece alcune armi il fucile d'assalto si chiama fucile d'assalto con mirino il fucile d'assalto quello invece a raffica si chiama vampa fucile e la mitraglietta quella con il silenziatore si chiama mitraglietta silenziata hanno anche sistemato un pochettino le percentuali del ritrovamento delle armi praticamente la frequenza di ritrovamento dei fucili leggendari è stata ridotta del 25% nei bottini e nei forzieri i bottini vi ricordo che sono quelli che scendono dalle mongolfiere mentre hanno mantenuto indifferente la frequenza di caduta delle munizioni hanno ridotto il tempo di attesa tra un colpo e l'altro del fucile a pompa ragazzi a 0,2 secondi quindi i fucile a pompa sono molto più veloci adesso hanno anche comunque sistemato dei bug relativi alle armi ragazzi sono veramente un team molto molto attivo che decide che vuole mantenere il gioco nel miglior modo possibile veramente un plauso a questo team di Epic Games hanno rimosso il rallentamento della mira assistita quando usiamo il mirino e hanno anche sistemato un problema che c'era nei proiettili del fucile di precisione che non attraversano adesso più gli altri giocatori quando le condizioni non sono ideali della rete quindi hanno sistemato il problema del ping diciamo hanno risolto un problema ancora relativo ai proiettili per quello che succedeva quando sparavamo verso le strutture a piramide quindi li passavano in mezzo e adesso hanno sistemato anche quello parlando invece ragazzi dell'interfaccia utente hanno migliorato il flusso di selezione della modalità di gioco quindi è tutto un pochettino più fluido quando apriamo adesso il nostro inventario il cursore del nostro mouse apparirà un pochettino meglio perché è sempre al centro dello schermo il codice di comportamento invece ragazzi viene mostrato direttamente nell'interfaccia di gioco al posto che aprirsi in una pagina esterna questo per evitare appunto scomodità soprattutto se stiamo giocando a schermo intero hanno risolto un problema sempre per quale venivano assegnati dei punti scusate per quali venivano assegnati venivano ripristinati i settaggi che facevamo soprattutto per chi eccedeva nella memoria video usata hanno sistemato anche l'opzione segnala giocatore in modo che potremo automaticamente inserire il nome del giocatore che vogliamo segnalare qualora stesse facendo un comportamento scorretto o usando dei bug hanno sistemato alcuni testi che mancavano in alcuni punti della mappa cioè ci faceva vedere magari la città ma non ci veniva detto come si chiamava e hanno anche sistemato un problema per la quale le barre della salute degli scudi apparivano vuote durante la vittoria sistemazioni anche ragazzi relative all'audio hanno migliorato appunto il tempo di risposta dell'audio rispetto alle animazioni le clip audio adesso sono regolate tramite l'indicatore di scorrimento nelle impostazioni audio cosa che prima non c'era e la musica invece degli emoti della danza non si ripete per tutti quindi se annulliamo il ballo non sentiamo più cosa che succedeva tutto il jingle che c'era quando andevamo a fare un balletto abbiamo anche dei miglioramenti ragazzi nelle prestazioni grafiche questo veramente va detto che ogni patch che esce di fortnite sono sempre degli ottimi miglioramenti per rendere il gioco più veloce più fluido e utilizzabile anche dagli utenti che hanno un computer un pochettino meno potente hanno ottimizzato gli oggetti interattivi ad esempio le porte adesso usano meno fps si possono aprire più velocemente pesano meno sul gioco hanno fatto dei miglioramenti al frame rate che dava dei problemi soprattutto quando avevamo in mano delle armi hanno risolto un problema anche che causava il rallentamento durante il cambio dell'orario in gioco e hanno anche sistemato un altro problema dove le zone sicure della tempesta potevano invece rallentare tutto il gameplay generale abbiamo anche delle correzioni di bug che davvero sono molto molto interessanti adesso le trappole vengono date come assist alle statistiche ai fini delle kill hanno risolto un altro problema dove veniva conferito scorrettamente un assist semplicemente colpendo un altro giocatore mentre adesso bisogna con un piccone scusate mentre adesso bisogna andarci un pochettino più giù duro è stato risolto un problema per il quale le statistiche dei danni subiti erano inferiori ai 100 dopo che siamo stati eliminati hanno anche fatto ragazzi come chiusura di tutto questo aggiornamento sulla battaglia reale nella parte social hanno aggiunto la possibilità di invitare i giocatori nel proprio gruppo attraverso Discord qua si parla ovviamente su computer hanno dato il supporto completo alla chat vocale per quanto riguarda il Mac e hanno abilitato il supporto per l'accesso a Twitch durante la battaglia reale hanno risolto un paio di bug velocissimi dove i giocatori non potevano collegarsi alle classifiche quelle chiamate solo amici e hanno risolto un crash che si verificava durante l'utilizzo della chat vocale beh ragazzi questi erano tutti i bug sistemati nella nuova DLC con i nuovi inserimenti abbiamo visto ragazzi tante tante cose nuove e di certo non saranno le ultime che il team di Epic Games ci proporrà per questo meraviglioso gioco chiamato Fortnite che dobbiamo davvero ringraziare per essere stato creato e per essere gratuito per tutti beh ragazzi io spero che questo video di aggiornamento vi sia piaciuto così vi ho tolto tutto il peso di andare a leggere sul sito principale tutte le varie modifiche vi ricordo sempre di lasciare un pollicione in su se vi è piaciuto questo video ed iscrivervi al canale per non perdere nessun appuntamento noi ci vediamo presto ciao ciao Grazie a tutti.